Marcello ci ha lasciati con un punto interrogativo, gli attaccanti sono già un po' stanchi, nel gioco di Torrente gli attaccanti fanno tante cose, certi errori sotto porta possono essere anche un po' la spia di una mancanza di lucidità, di un pizzico di stanchezza? Sì, sicuramente potrebbero essere la spia, non ci dimentichiamo che proprio per il modulo adottato è normale che Torrente chieda un aiuto maggiore da parte degli attaccanti nella fase di non possesso palla, quindi qualcosa la pagano e possono pagare proprio una mancanza di lucidità sotto porta, io la cosa che noto è che sicuramente non ritengo giusto dare la croce in questo momento agli attaccanti, leggevo pure sui giornali, questo continuo chiedere i gol, i gol, i gol, parliamoci chiaramente, innanzitutto quelli che stanno giocando ora stanno secondo me stanno facendo molto bene, ma nell'ambito della storia del calciatore non sono attaccanti tipo i caracciolo, tipo i caccio, tipo i tiri boccia, gente che sono anni e anni e anni che fanno queste categorie, questi sono nella media, anzi secondo me stanno facendo abbastanza bene e quindi bisogna supportarli e aiutarli, quindi non ritengo giusto le critiche che stanno piovendo addosso agli attaccanti. C'è una telefonata, pronto? È pronto Enzo Cosimo, salutami in carità. Ciao, ciao, ciao. Senti, io non sono proprio, sono d'accordo con i telespettatori di prima, perché anche io lo vedrei benissimo Galano, ricordo l'anno scorso Sanzone nel Sassuolo, faceva la punta e come caratteristiche mancino, veloce, rapido, tiro dalla distanza. Quindi lo vedi come seconda punta insomma? No, ma forse guarda che io quei due gol di Alvadore Caputo, avendoli tutti e due sul sinistro, con il sinistro di Galano, non li avrebbe sbagliati lunedì quei due gol. Sentiamo Marcello, sentiamo Marcello. Nulla toglie che Galano possa giocare, dico, da seconda punta, però è normale che è un giocatore che predilige partire dall'esterno per accentrarsi e sfruttare il sinistro, quindi predilige partire dalla destra per poi chiudere sul sinistro e andare al tiro perché è dotato di un tiro velenoso. E' vero pure che i movimenti che ha fatto e che sta facendo sono diversi dal movimento che dovrebbe fare da seconda punta. Dipende poi dall'allenatore se ritiene giusto abbinarlo ad una prima punta e ovviamente farlo giocare da seconda e quindi sbariare su tutto il fronte d'attacco. Lui di solito predilige partire dalla destra per andare a chiudere col sinistro. Ristovski, qui apriamo un altro argomento, il Bari può attingere altre risorse della panchina perché non dimentichiamolo, Torrente ha puntato su una quindicina di elementi in linea di massima, gli altri hanno giocato minuti come nel caso di Ristovski, come dello stesso Grandolfo, mentre ad esempio Aprile non si è mai visto in campo sino a questo momento. Sentiamo cosa ha detto oggi Ristovski. Il mio momento, dai all'inizio anno ho perso un po' di tempo, poi sono stato a nazionale però sto recuperando piano piano, vedete, si sento un po' meglio fisicamente, stavo un po' dietro dagli altri, però io sono pronto a dare massimo, a dare... Sì, sto bene, ho avuto due qualificazioni, partite con nazionale A, ho giocato 20 minuti lì, l'importante è che si sento meglio, però ripeto, io sono pronto, ho perso troppo tempo fisicamente, non sono mai stato così male, male, veramente, lo spingevo tre volte, respiravo male, ho parlato con dottore, con tutti, quindi la verità è questa, ora sto bene, alleno bene, io a Parma a primavera ho fatto anche terzino sinistro tante partite, però il mio ruolo è terzino destro. no, Sabelli è forte, veramente, bravo, anche bravo ragazzo, sta lavorando, ha migliorato tanto qui a Bari, ha fatto tutte le partite, quindi non posso dire niente di differenza tra me e lui, caratteristiche mi sembra sono uguali, dai, non lo so, è forte veramente, certo che ce l'ho voglia, spero che mi butta sabato, martedì, vediamo, poi voglio dimostrare, perché per questo sono arrivato a Bari a giocare, a dimostrare quello che avevo. E questo è Ristovski, questo momento davvero indefinibile, perché l'abbiamo visto, credo, nelle prime giornate di campionato, giocava un ventino e minuti da qualche parte perché non si è più visto, ha avuto degli infortuni, è un nazionale macedone, del nazionale A, lo scorso anno non fece bene a Crotone, poi andò a Frosinone, però la prima divisione giocò tutta la stagione, è davvero difficile, non si può esprimere un giudizio in questo momento su questo calciatore, sappiamo soltanto che l'alternativa a Sabelli. Cosa ha in panchina torrente, secondo te, Marcello, che potrebbe sfruttare meglio di più? Ma io credo, sicuramente davanti, probabilmente sfruttare in questo momento un po' di più forse Galano, perché a parte la prestazione con il Brescia, come hai detto tu, il discorso del centrocampista, che può essere l'inserimento magari di Sciaudone, in attesa che possa anche, voglio dire… O tra i poco utilizzati, abbiamo dimenticato Borghese, che praticamente viene utilizzato questo centravanti più che da… Sì, però sostanzialmente al massimo Borghese andrà magari a sostituire qualcuno dei centrali di difesa e poi capire se Borghese può giocare a tre o poter giocare a quattro. Come lo vedi tu, Borghese, tre o quattro? Ma io sinceramente lo vedo più a tre. A tre? Io sì. Per quello che ho visto l'anno scorso. C'è un amico in linea, pronto? Buonasera a tutti, sono Piero da Bari, un saluto a Marcello Chiricato. Ciao Piero. Niente, io vorrei riprendere quello che ha detto stamattina Gaudio, lo condivido, cioè inizialmente molti pensavano che il Bari già a gennaio stava nella serie inferiore. Siamo partiti benissimo, la squadra ha risposto bene, in economia hanno fatto questa squadra, secondo me c'è da fare un plauso e basta, incondizionatamente. E poi volevo permettermi di suggerire, non so se l'ospite è d'accordo, se al limite adesso di impiegare forse leggermente di più Gavano, lo vedo più fresco, che non casomai l'altro attaccante, quello di Junco, che lo vedo un po' più provato, forse ha bisogno di rifiatare. Grazie, grazie per il tuo intervento. Grazie per il tuo intervento. Galano al posto di Junco. Galano sicuramente in questo momento forse andrebbe sfruttato un po' di più, e su quello lo dicevo anche prima, poi per quanto riguarda, dico tutto il resto, dipenderà anche dall'assetto che avrà intenzione di utilizzare Torrente, perché un contro se giochi con un centrocampo a tre, un contro se giochi con il centrocampo a quattro, un contro se giochi con i tre dietro, un contro se giochi con i quattro dietro, perché prima si parlava di Ristovski, al massimo Ristovski è il sostituto di Sabelli, però probabilmente Torrente conosce meglio le caratteristiche di Ristovski e sa se deve utilizzarlo con una difesa a tre oppure se è il quarto di destra, bisognerà capire, ma queste sono valutazioni dell'allenatore. 080-501-9998, vediamo di prendere un'ultima telefonata, poi ricordo c'è un'altra parte, la terza che però sai interamente è dedicata alla Palacanestro e all'Aleumatic Cus Bari, intanto adesso il Bari è un tour de force vero, con tre partite, una più difficile dell'altra, perché c'è il Padova sabato, e sappiamo che il Padova è una delle squadre più forti del campionato, poi martedì sera viene l'Empoli, che è una squadra in ripresa, che a mio avviso è superiore ai punti che è in classifica, l'Empoli ha dei buoni giocatori, Maccarone, Saponara, ha dei giocatori molto interessanti, Havana, insomma non è da buttare, fra virgolette a buttare via, e poi andiamo a Modena con un'altra squadra che sta facendo bene in questo campionato. Prendiamo una telefonata, pronto? Buon pomeriggio su Zambor e un torta all'ospite. Ciao, ciao. Francesco, gruppo Tamarfa. Ciao, Francesco. Senta, io la vedo direttamente da quelli che hanno chiamato fino adesso, per me se avessi giocato bene, defendi e qualche altro giocatore avremmo stravinto, perché il portiere sta a preparare, quindi ha fatto delle belle parate, quindi l'unico che ha sbagliato è Strati Caput, ma è giustificabile, quindi forza a Bari. Forza a Bari. Grazie per il tuo intervento, siamo in dirittura d'arrivo per quel che riguarda questo segmento del Biancheroso TV Sport, io ringrazio l'amico Marcello Chiricaldo, grazie Marcello. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con uno dei valorosi atleti della Leomatic Cus Bari, a tra poco. Grazie.